Buongiorno a tutti, sono Veronica Pucci dall'Università di Padova e oggi vi presento un lavoro dal titolo Riserva motore e funzionamento cognitivo nell'invecchiamento. L'invecchiamento della popolazione sta spingendo i ricercatori ad identificare interventi atti a mantenere un buon funzionamento, una buona qualità di vita il più lungo possibile. Recenti studi hanno evidenziato come training di attività ed esercizio fisico influenzano positivamente la cognizione. L'ipotesi di questo studio è di verificare se anche l'attività fisica praticata nel corso della vita possa portare ad un miglior funzionamento cognitivo nell'invecchiamento, quindi che l'attività fisica accumulata possa costituire una sorta di riserva, una riserva motorea, abile nel compensare il declino cognitivo etarelato, inoltre stando alla letteratura un effetto maggiore atteso per il dominio delle funzioni esecutive. Al fine di verificare le ipotesi nella prima parte dello studio sono stati reclutati 75 partecipanti sani di età superiore ai 50 anni. Essi sono stati valutati con un questionario ad hoc per quantificare la loro riserva motoria, indagando non solo l'esercizio fisico, quindi tutte quelle attività strutturate svolte con l'intento di mantenere la forma fisica, ma valuta anche l'attività fisica incidentale, qualsiasi attività quotidiana che porta ad un dispegno metabolico al di sopra del basale. Poi lo stesso campione è stato sottoposto ad una batteria computerizzata cognitiva completa. Successivamente nella seconda parte del lavoro un altro campione di 101 partecipanti con le stesse caratteristiche del precedente è stato sottoposto allo stesso questionario di riserva motorea e da una batteria di test specifici per le funzioni esecutive. Per verificare le ipotesi sono stati poi costruiti dei modelli di regressione lineare multipla tenendo conto dell'età come superiore o inferiore a 65 anni ed è risultato che la riserva motorea ha un effetto significativo ed il modello stesso spiega circa il 50% della variabilità dei punteggi. Un maggiore effetto, come potete vedere dal grafico la linea in verde, è stato osservato nei partecipanti più anziani sopra i 65 anni. Per quanto riguarda invece i partecipanti sottoposti alla batteria di test esecutivi la riserva motorea relativa all'esercizio fisico è risultata in grado di predire l'efficienza ai test. Concludendo quindi l'attività fisica svolta nel corso della vita sembra essere un fattore rilevante nello spiegare la variabilità cognitiva del campione, specialmente nei partecipanti più anziani e specialmente nel dominio esecutivo. Oltre ad approfondire i fattori che contribuiscono alla variabilità cognitiva dell'invecchiamento, questo studio potrebbe fornire nuovi basi per l'implementazione di programmi di prevenzione dell'invecchiamento patologico o riabilitativi per persone con conclamata demenza. Grazie mille.